Domenica 1 maggio 2022 ha avuto luogo la partita tra il San Marco Agropoli e il comprensorio Terra del Mito, valevole per la dodicesima giornata del girone I di ritorno della seconda categoria di Salerno. Il match si è giocato al campo sportivo Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabate, in quanto lo stato in cui giocano gli agropolesi non era utilizzabile per motivi tecnici. La partita ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, come testimoni il risultato finale di 5-5. Lo spettacolo non è di sicuro mancato in una partita dove il San Marco arrivava da squadra già matematicamente promossa in prima categoria, mentre il comprensorio Terra del Mito riesce con questo pareggio a sperare ancora di rientrare nelle zone di classifica utili a giocarsi i playoff. I padroni di casa partono male incassando l'1-0 dopo circa 8 minuti dal calcio d'inizio. Bisogna aspettare la prima mezz'ora per vedere la reazione degli agropolesi, che si creano l'1-1 con un tocco di esterno che sopra il portiere in uscita. Da qui all'intervallo succede di tutto. Prima gli ospiti si riportano in vantaggio, con un bel colpo di testa su cross promedio da sinistra. Dopo due minuti giallo-azzurri pareggiano i conti con un tapin facile ravvicinato su una respinta sbagliata del portiere avversario. Poco prima del fischio finale la squadra in maglia bianco-blu si riporta in vantaggio, concludendo il primo tempo sul risultato di 3-2. Intorno al primo minuto del secondo tempo gli agropolesi si riportano in parità grazie a un calcio di rigore ben eseguito causato da un tocco di mano. Al minuto 8 il San Marco sorpassa gli ospiti, sombrero su un difensore e tiro di mancino per il vantaggio, che dura però meno di 10 minuti. Gli ospiti agguantano il pareggio con una bella azione individuale e vanno sul 4-4. Si deve attendere qualche minuto e la squadra di casa va sopra di un gol in seguito agli sviluppi di un calcio d'angolo. Per mezz'ora le due squadre creano occasioni ma la palla non entra, fino a che un'uscita da dietro sbagliata del San Marco porta alla rete del definitivo 5-5.